Sono tornati in piazza anche in occasione della Pasqua i volontari della Fratres di Ariano Irpino per cercare di invogliare quante più persone alla donazione di sangue. Le scorte sono esigue in provincia di Avellino con gli ospedali in affanno e gli interventi meno urgenti che saltano. L'emoteca mobile è stata parcheggiata nella centralissima piazza Plebiscito sul Tricolle per tutta la mattinata, un incentivo in più per tutti i cittadini ad andare a donare. Ci è stata richiesta sia dall'ospedale di Ariano che dall'ospedale della provincia che stanno sprovvisti di sangue e quindi ci hanno chiesto un contributo per fare un sabato santo per le donazioni perché veramente la provincia non ha sangue per poter operare i pazienti. Da poco tempo si è iniziato a fare le operazioni e quindi hanno bisogno di sangue, se no si blocca di nuovo come è stato per il Covid a non fare interventi. Per poter donare con il Covid, in convivenza con il Covid basta aspettare 14 giorni da quanto sia negativo e si può donare tranquillamente. Non si può fare un'accompagnata da qualcuno che ha il Covid e quindi non può donare perché può avere il Covid di incubazione. Ad Ariano funziona benissimo, come funziona bene a Grotta, funziona a tutti i paesi. La gente se ce lo dici o lo metto per scritto su una locandina è distratta. Distratta da tanti problemi, da tanti casi. Bisogna andarli a prendere e poterli coinvolgere a fare una cosa buona. È veramente una cosa buona, noi dobbiamo sapere che può servire un giorno anche a noi e quindi diamo una mano a chi adesso ne ha bisogno.